Io ce ne è partita dunque anche questa seconda serie Bernaccini, Chilardini, Meloni, Roda, Berazio, Scaldini, Visiola, San Bruna, Ragusini, Masone, Gambardella e Vitali Ovvero una serie affollata, voluta fortemente da Saro Naso, la sua organizzazione Per cercare di ovviamente andare a raggiungere i minimi standard di partecipazione Per i prossimi campionati italiani in più E tanto, eccoli qua che passano sul loro primo giro Ed è davanti Alessandro Scaldini Davanti a Amedeo Perazzo 53,91 Proiezione comunque che potrebbe andare ad attaccare il burro 1,50 Intanto 2,16 per Nicola Snava Intanto prova ad uscire, proprio dovrebbe essere proprio Amedeo Perazzo Si ferma la lepre anche di questa seconda serie Ma lui dovrebbe esserci anche la maglia del Cusis Subria Andremo sul rettilino finale Eccoli qua, si presenta davanti Atletica Riccardi Prova a tornare su Gruppo algeristico Vertovese Prova ad allungare anche Riccardi E anche Matteo Roda tra i due Vediamo che se la vada a giudicare Con 42 Amedeo Perazzo 1,53,26 Quindi un secondo giro decisamente più lento Cosa abbastanza...